Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Rieti Life, tutta l'informazione di Rieti e provincia su rietilife.com, facebook e instagram. Un fiume di mezzi in città, è la protesta degli agricoltori che dal cuore dell'Europa arriva proprio a Rieti. Abbiamo raccolto tutte le emozioni di una giornata piena in un servizio. Le strade di Rieti invase dai trattori, è la protesta degli agricoltori reatini provenienti da tutta la provincia. Mentre in Francia le manifestazioni sono alle porte di Parigi e in Germania cominciano a scarseggiare anche beni di prima necessità nei supermercati, la protesta degli agricoltori di Vampa anche in Italia. Credo che le problematiche siano più o meno le stesse per tutti, anche per tutta questa gente che oggi ha manifestato qui a Rieti. Quindi diciamo che è vero che ogni Stato, ogni nazione ha le sue specificità e i suoi problemi economici intrinsechi, però il settore agricolo forse molti non lo sanno ma ha tante sfaccettature, ha tante caratteristiche peculiari. Manifestazioni da Verona a Foggia e Rieti non è esente. Stamattina oltre 100 agricoltori con i loro mezzi da tutto il reatino si sono ritrovati al Palazzo Giurner per avviare una mattinata di proteste per accendere i riflettori sul settore. Per quanto ci riguarda il discorso parte da un disagio economico essenzialmente. È vero che sembra un discorso qualunquistico, però il discorso economico, gioco forza, deve spingere l'economia e deve reggere il sostentamento delle famiglie e degli operatori del settore come in tutte le categorie lavorative. Il problema fondamentale è proprio il costo di produzione che hai, che poi quando vai a vendere il prodotto è svalutato perché si è sottomesso ai mercati di tutta Italia, di tutta Europa, dei multinazionali. La carne a noi ci costa 10, stai sempre sotto, secondo me 1,50 euro c'è stato tutto sotto, minimo, ma minimo sto a parlare, per poter almeno ripagare le spese e cambarci un pochetto. Poi l'altro problema grosso sono gli investimenti che poi fa, perché i bandi li fanno, ti aiutano e ci vanno comunque le spalle coperte e i sordi per farli, se no non li fai. Una lunga colonna di mezzi ha poi bloccato le strade della città. Obiettivo, farsi sentire. Per quanto ci riguarda il discorso parte da un disagio economico essenzialmente. È vero che sembra un discorso qualunquistico, però il discorso economico, gioco forza, deve spingere l'economia e deve reggere il sostentamento delle famiglie e degli operatori del settore, come in tutte le categorie lavorative. Le norme europee, il costo dei carburanti e gli sgravi fiscali, ma anche l'ingresso sul mercato della carne di origine sintetica e delle farine di insetti. Questi i motivi della protesta che si allarga a macchia d'olio in tutta Europa. Secondo me sono autorizzate, ma da gente che non sa nemmeno da dove è la carne e come la fanno, perché sono cose nuove che potranno andare come non andrà, ma il problema è prima, non c'entra quella, è una cosa nuova che potrà andare come non andrà, ma il problema è proprio la gestione delle aziende in generale, è proprio economico il problema. C'è un altro problema con cui l'agricoltura deve misurarsi i danni da fauna selvatica, in particolare nel reatino da cinghiali. Purtroppo non siamo più padroni dei nostri terreni a causa di questi animali selvatici che noi facciamo e loro dietro dietro ci distruggono tutti i nostri sudori, le nostre spese e purtroppo la maggior parte delle volte non vengono riconosciuti. Abbiamo organizzata questa manifestazione, ringrazio innanzitutto le autorità, le forze dell'ordine e tutta la città di Rieti che ci ha da subito dato disponibilità e vicinanza. Man mano che il corteo si sviluppava per le strade della città di Rieti abbiamo visto gente che ci applaudiva, ci dava supporto e questa è stata per noi la prima vittoria. Questa manifestazione è anche per riqualificare la figura dell'agricoltore che ultimamente sempre più spesso viene denigrata per causa principale di inquinamento quando in realtà siamo i tutori dell'ambiente. Rieti celebra la giornata della memoria. Due pietre d'inciampo sono state posate quest'oggi all'interno delle celebrazioni per il giorno della memoria all'ingresso della questura di Rieti in ricordo di Salvatore Poti e Filippo Palieri. Entrambi in servizio nella questura di Rieti hanno vissuto le atrocità delle deportazioni naziste nei campi di concentramento con Palieri che è stato assassinato nel 1945 e a cui è già stata intitolata la sala conferenze della questura. Una cerimonia molto sentita presieduta dal questore Mauro Fabbozzi alla presenza delle autorità civili e militari. Manifestazione per la giornata della memoria sull'olocausto anche in prefettura con la consegna delle medaglie d'onore e il convolgimento degli studenti. La Coppa Carotti scalda i motori. Oggi la presentazione dell'edizione 2024 nella sede della Fondazione Varrone. È stato presentato il calendario dell'evento che si aprirà il 26 luglio e che finirà il 4 agosto. La gara in programma dal 2 agosto. Inoltre sarà l'edizione in cui la Rieti Terminillo entrerà a far parte del nuovo campionato nazionale supersalita. Il più importante del circuito è che vedrà il percorso reatino nella sesta tappa su 7 totali con in palio due punti per il vincitore a dimostrazione dell'importanza e della difficoltà. Questo risultato è arrivato grazie al lavoro svolto durante questi anni, ha detto il presidente di Automobile Club Rieti, Alessandro De Sanctis. Valorizzeremo tutto il territorio. Confermata anche la prima edizione della Rieti Terminillo Classics. Weekend di carnevale nel Reatino. Domenica in città i cavalli infiocchettati, cavalieri e amazzoni in centro in sella a magnifici destrieri per salutare l'avvio del carnevale. Appuntamento dalle 14.30 a Porta d'Arce a margine di una mattinata di eventi con l'associazione guidata da Iacobucci. Al via alle 14.30 anche i carri e il corso mascherato a Santa Rufina. Maschere divertimento per le vie della frazione Angioina con un percorso tra via Togliatti, via Don Mario d'Aquilio, via Primo Maggio e via Dello Sport. Una vera conferma nel panorama del carnevale reatino. E Rieti si prepara ad un weekend sportivo tra calcio e basket. Dopo due vittorie consecutive con Pescatori Ostia e Ladispoli ecco il primo vero banco di prova per la nuova SSA Rieti targata Gardini che giocherà contro Campus Eurri. Capitolini sono la seconda miglior difesa ma soprattutto sono stati la prima formazione a battere gli Amaranto Celesti in campionato. Calcio ad inizio domenica alle 11.15 a Roma. Partita tosta anche per F.C. Rieti che va ad affrontare domenica alle 15 al Gudini la squadra più in forma del girone B di promozione, il Real San Basilio. Passiamo al basket. La NPC deve rialzarsi dopo il K.O. rimediato sulla sirena a Domenia e lo vuole fare davanti al proprio pubblico già domenica alle 18 contro Desio in uno scontro che sa di salvezza. Anche l'altra sponda a spicchi della città, la Real Sebastiani vuole dimenticare la brutta sconfitta con Cantù rimediata al Palazzo Giurner e vola a Vigevano per conquistare due punti importanti per consolidare la zona playoff. Appuntamento domenica alle 18.00. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale che torna lunedì alle 20.45. Durante questo weekend rimanete informati sui siti del nostro gruppo e sui nostri social. E domani in edicola nei consueti punti di distribuzione sfogliate Rieti Life Free Press, il primo ed unico quotidiano cartaceo gratuito della provincia di Rieti. Grazie per averci seguito, grazie alla redazione e grazie a Luciano Mancini per la regia di questo telegiornale. Buona serata, buon fine settimana. Grazie a tutti.